Era il 18 aprile del 1948 quando gli italiani si recarono alle urne per eleggere deputati e senatori della prima legislatura. La seconda guerra mondiale era finita da meno di tre anni ed erano passati quasi due anni dal voto che aveva decretato la fine della monarchia e la nascita della repubblica. Fattori che indubbiamente influenzarono l'affluenza alle urne. Per la prima legislatura della repubblica andarono infatti a votare il 92,2 per cento degli aventi diritto. Dati ben diversi da quelli di oggi. Basti pensare che all'elezione del 2013 è stato raggiunto il minimo storico con un'affluenza alle urne di poco superiore al 72 per cento. I dati contenuti nelle tabelle dell'Istat sono elaborati dall'agenzia giornalistica di Ennecronos. Bisogna anche dire che in termini assoluti gli elettori per la Camera dei Deputati sono aumentati del 73,4 per cento passando dai 29,1 milioni del 1948 ai 50,5 milioni del 2013. Per il Senato l'incremento è stato maggiore visto l'invecchiamento della popolazione passando da 25,9 milioni a 46,2 milioni più 78,7 per cento. Se è vero che in termini assoluti è cresciuto il numero di votanti è altrettanto vero che nel 1948 due milioni di persone decise di non andare. Nel 2013 sono rimasti a casa 14 milioni di elettori. Numeri che non fanno certo ben sperare per il prossimo appuntamento del 4 marzo.